Tu, fra me! Non tappai mai e prego! Deve avere tutto il tempo Per ammirare la tua spirito come dice... Vedi, stanno! Vedi, guarda, tutto il fello che lui sta a gassumare! Mia nonna, buona, dopo io sta a! Pissare tutti quanti! Era Fiorentina di nascita e mi ha lasciato questo a 100 per parte di verità. Ma ora ho dovuto dire quella, l'ha un po' Ma non vuoi! La prima ha preparato un grande riferimento. Ma che torna? Tutti quanti lo dobbiamo passeggiare io, quale? Tu superiore! Ci volevo dire quattro parole pulite come se ci dice, onestamente soltanto l'unico. Ehi, ho stati in capito la parola facile. Ho stato un'automazione, quello è un po' di distruzione più degli altri. E essendo graduato, sono stato costretto ad imparare tante cose che gli altri non sanno. La verità è che Convigenza ha fatto veramente una bella azione civile. Cose pazze, io ho l'opportunità di trovare un mazzo con un milione. Ecco qua, porto tutto il ruolo di un gruppo di elezioni generale. Cose pazze, io ho l'opportunità di trovare un mazzo con 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 un mazzo. Ehi, guarda qui E come ti sono scusato? E perché? E perché mi sono scusato? Per compriarmi di te. Per non tenere giorni e notti per il dubbio dove abbiamo scelto dai tuoi riprenditori. Ma tu sai che è? A diavolo, la è la numerata, a diavolo. Quindi è un a diavolo. O sono come dei figli? Quattro, dico. Quattro, dico. E allora pranzio, pranzio, perché vai? Mi sono proprio di genocle, che eravamo contato al postino. Questo verga è un bel vecino. Eh. Er, usc�� è una di cui. Ha, sicuramente. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Bono! Ecco, ciao. Di due, per tornare giorni? No Vision. Non eslata. O Nezi. E così mi sono rubato un po' di rinforzamento. Grazie a tutti! Beh, ma ora è stata fatta per lì, avete capito? A te, per lì, ma quale sto orando? Qui è stata fatta per lì, ma che stai parlando? Ma però, io mi sono sfrutciata, per lì, perché ti devo fare un migliorere. Ehi, ehi. Ma voi ti ritorno? Tu, fai un po' lì. Ma voi ti ritorno? Ehi, ma voi ti ritorno? Ave, mi ritorno di voi, ma voi ti ritorno? Vanno regalare, vanno regalare già e qui? Vanno regalare già vanno regalare! Mi prego di non fare piantare! Si è offeso! La bimboffa si presenta nella sua vecchia fiamma! Ma che stavo? E' questa capire è una barca! Io a di una tenuta a casa! La bimboffa si presenta nella sua vecchia fiamma! E' una schiena! La bimboffa si presenta nella sua vecchia fiamma! La bimboffa si presenta nella sua vecchia fiamma! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 grazie 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 mappa le scappole se quando sempre che sa detto noi come era nostro dovere siamo figli e miei per queste carallo ha messo spazzito un biglietto generale offri da due piastini offro io che ora quando un vostro subito ordine di pote in questa parte non ci stai più posizionare la mappa mappa ehi 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 i ehi a ehi 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 Non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero. Poi presto le volte, la notte e mezzo, ora mai siete stanco, non ce la faccio nessuno, non siete da nessuno di stamattina. L'artista dice, vincente e sposte, io mi sono andato a cittadini, non dico, ma, che non sa che è dietro il cartone, in casa, ma avete visto? E c'è stato svegliendo e chiamato, capiscono, e lui, ti ha la torna grazie a voi, marito. Dai sì, dai sì, e rispondi solo se sei presente, e c'è giusto, soppri sempre, soppri sempre. E' una volta, non ha lì, ma c'è, ma deg cooking, ma questi stanno spettando i commentatori, commentatori, come non sei se il che c'è, il che c'èaltro, mi sapeva, tu lo sapeva, tu non sapeva, tu non sapeva, tu non c'è, ma, i rememberi, papà, e l'avvento era sola? Ma haimamagik, ma fatti già? Dopo il sacco di tempo? Ambientona? Ma avete vistoati probleYAN il commentatore? Tu commentatore se potrebbero uscierto io? Ma guardavo fra le mani, e io ho sapito, il commentatore ne personale, intellettuale, vengono ignorando un vapore, vicino a uno ci stiamo, quella persona che aveva perso i soldi, come sono in grado ma ha presentato quella persona del tempo, questo è il nostro spazio, chi sta se mangia pane e fatica, pane e fatica e che fa? Si mangia bene, ma tu stai qua a vedere, se mangia pane e fatica, pane e fatica e che fa? Ha la fortuna di trovare una busta con un milione, e la forza si andò, e se noi che avevano questi soldi, ha presentato il signore, giuntato la mano, è come a te, vincente il po', vai dai tuoi compagni e dici che si devono regolare come te, devono essere regolati come te, e no, il soldo sta andando per la tavola, ti chiedevi via, ti ho preso, mi sono uccidato e mentre mi ne stiamo andando, il medatore mi ha chiamato, mi incerti a spost, vieni da, vieni da, vieni da, vieni da, sono tornati indietro, non puoi con il paura, ma te hai detto, mi incerti a spost, tu mi devi dire una cosa, un milione di un milione, 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 si andò, vede una, e che faccio, e che cosa stai faccio, che faccio, che faccio? Allora io ho parlato con mio stricita, al cinque signor comandatore, lui si è mercendolo, e non ci ha approfittabile di andare a russare, non so io, ma c'è tua truca io, avessi tua tricita, avessi tua decinta, mi reclutavo stessa e cargò, bravo, bravo, vincente, ma c'è qualcosa di prima, che faccio tutto, vincente, vincente, mi reclutavo, ma io sono una persona netta anche scuola e poi ha detto così prendi sette tu al busto per i soldi e consegnali al proprietario al civileo al busto di comodo e giallo lontanamente nelle mani del proprietario postavolato il proprietario il comandatore è davvero da voi ma ragazzi non baci hai detto vai a un certo sport adesso va a te, va a te e poi fai a te allora dice complimenti ciao scusate la soddisfazione è la soddisfazione è la soddisfazione è la soddisfazione è la soddisfazione sta a dirsi non so ma io stai a dirsi E l'emozione, lo scopatore, lo scopatore, lo scopatore, lo scopatore, parole che pare è una cosa trascurata, ma è una parola di cui vuole. Ci dobbiamo fare tanto di capire. Vi immaginate voi una città senza scopatore? Alla scelta toccasse di vedere il puntone di montezza, tu che ne fanno? E dirà, ce ne stanno, ma ci levano, e ci dobbiamo fare lui, e gli stessi le giuppolini. Uffa! E state facciate! Ehi, ehi! Se non ci fossimo lui, starebbe in pericolo la salute pubblica di tutta la cittadinanza. ci pagano poco, ci considerano poco, ma la tua scelta nostra è fumita, è un meme che io, non è peggio! Sono lui, peggio, faticate, dico, faticate, e teniamo alto il morale con lo scopatore. Segniamo ai nostri figli di amare il cuore nella scopera. Il cuore come si è con il loro padre, e la scopo come si possono lavare la mano. Va detto! Bravo! Cavorà, stamattina ci ha chiantato il giornale, c'è stata la fotografia mia, un nuovo tombo! Uuuuh, quando stai arrivando? Eh, ah, non ho! Provisso! Cavorà. Cavorà, non ho! Cavorà, non ho! Cavorà, non ho! Pagano! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti